Dunque, tema, descrivete la figura di vostro padre, il suo lavoro, le sue abitudini, le sue aspirazioni. Svolgimento. Mio padre non è proprio quello che si dice un bell'uomo. Mi ricordo che una volta che lui li dicò in autobus, uno lo chiamò scucchione. Il lavoro di mio padre è stare molto fuori di casa e poi ritornare con stoppe, orologi, ombrelli e pure copertoni. Mio padre, prima di uscire dal portone, guarda sempre chi c'è per strada e ogni tanto telefona che vuole la biancheria. La domenica. Un momento. Ma papà, che fai? Lo strappo. Non mi piace. I temi bisogna scrivere di fantasia. Capisci? Inventare delle cose sentimentali, graziose, carine. Non scrivere delle cose che succedono nella vita. Che c'entra la vita? Ma maestro ha detto che dobbiamo essere sinceri. Vabbè, sinceri di animo. Questo conta. Non scrivere se stupitacci.